È finito a verbale il dissenso espresso da un gruppo consistente di consiglieri in rappresentanza delle BCC di diverse regioni. A soffiare sul fuoco del dissenso l'organizzazione che nelle intenzioni del legislatore doveva portare ad una serie di sinergie tra istituti di credito cooperativo. Nel CDA di ICCRA, il board della candidata a capogruppo, i malumori che serpeggiavano da tempo sono venuti a galla. In questa fase sono soprattutto le banche virtuose le più suscettibili. La somma dei vari istituti di credito e le aggregazioni rischiano di diventare un peso per chi ha i conti più in ordine. Dietro il dissenso, secondo gli analisti, c'è un ampio fronte che aveva spinto il governo nei mesi scorsi a valutare una sospensione della riforma del credito cooperativo voluta dal precedente governo. Ed è proprio in questo contesto che le contestazioni finite a verbale potrebbero rappresentare ben più di una formalità malamiccia per far nuovamente esplodere la questione. I tempi sono strettissimi. Il nuovo statuto prevede che nel CDA della capogruppo non ci saranno più 15 rappresentanti del credito cooperativo, ma solo 10. All'inizio del nuovo anno il rinnovo del board potrebbe quindi riservare più di qualche sorpresa. Rete Veneta continuerà ad occuparsi del tema per verificare che il territorio e i risparmiatori abbiano la possibilità e la garanzia di contare su banche attente e rappresentative delle esigenze locali.